Buongiorno a tutti, è un piacere essere di nuovo qui. Grazie a Presidente Sportelli per questo invito. L'amico Amalfitano, non ho il piacere dell'amicizia di lunga data come Giorgio Tonini, però ho il grande piacere di questa forte amicizia e collaborazione che si è instaurata sui temi che per primo mi ha proposto. Grazie alla Camera di Commercio e al Signor Prefetto della sua presenza. Taranto per me è davvero un posto stimolante. È la terza volta che sono qui e sento il dovere ogni volta che vengo di ascoltare questa città, anche per chi, come me, anch'io, come Giorgio, non ho la patente per parlare dei temi e dei problemi del Sud Italia, però credo che riusciamo davvero a capire quello che sta avvenendo nella vostra città e a intravedere questa volontà di anticipare, che mi sembra davvero saggia, quella che indicava il Senatore Tonini. Se vogliamo uno sviluppo, uno sviluppo sostenibile, non basta più pensare di andare a traino. Bisogna davvero cercare di anticipare. Io credo che voi ci stiate riuscendo. Quello che voglio dirvi oggi, allora, è che state e stiamo facendo una scommessa sul futuro. È vero, oggi parliamo nell'ambito di un corso di alta formazione, ma io non ho mai l'impressione, quando vengo qui, di avere un momento accademico. Mai, anche perché, non a caso, siamo nella Camera di Commercio. Ho davvero l'impressione, la convinzione, che qui ci sia la consapevolezza che ci si vuole giocare il futuro. A questo proposito, l'amico e collega Tonini ricordava come queste idee vengono da lontano, vengono dal 68, a Malfitano, a Nuiva, e qui c'era anche dell'esperienza personale. Io nel 68 non ero ancora nato. Certo, viene da domandarmi e da domandarvi dove vi siete persi per strada, voi 68tini. Perché se le idee erano quelle così alte, che tutti abbiamo letto e ci siamo ricordati, come siamo arrivati a passare da JFK ai lupi di Wall Street, in mezzo qualcuno dovrebbe ricostruire questa storia, no? C'è davvero una deriva impressionante di quegli ideali, di quel modello di sviluppo e di quel paradigma. Scherzando, per concludere questo saluto, spesso dico ai miei amici che quell'epoca hanno vissuto e che mi raccontano con orgoglio quella rivoluzione. Dico, voi avete immaginato grandi rivoluzioni sociali, economiche, dei costumi, la rivoluzione sessuale, le droghe leggere. Poi vi siete magari soffermati troppo sugli ultimi aspetti, dimenticando quelli precedenti. Però è davvero una battuta per dire, per sottolineare questo scarto. Cioè, noi oggi non stiamo pensando un sogno nuovo. Noi stiamo pensando il sogno che è stato il sogno di altre giovani generazioni prima di noi e che in qualche modo è andato tradito. Bisogna partire da questa consapevolezza. Perché altrimenti corriamo il rischio, che io vedo girando l'Italia e parlando di questi temi, di pensare che stiamo parlando di cose belle e buone, ma che non riguardano la realtà e men che meno il nostro futuro. E men che meno il futuro di sviluppo economico. Non è così. Non è così. Queste cose hanno radici lontane, i modelli di sviluppo, i paradigmi cambiano. Abbiamo visto che sono cambiati, tra virgolette, in peggio. Per carità, portando con sé sviluppo, progresso, benefici per l'umanità intera. Noi abbiamo già parlato qui a Taranto, no? Di che tipo di critica al sistema noi intendiamo sviluppare. Una critica riformista. Una critica tutta dall'interno del sistema. Non un nuovo inganno. Non un nuovo rilancio a chissà quale ideale di convivenza che poi tradiamo non appena si aprono quelle sliding door e andiamo a casa o nelle nostre aziende. Ecco, allora, lasciatemelo dire, mi sembra proprio che quello che state facendo voi sia pienamente dentro questo spirito. Di questo mi rallegro, mi congratulo e da questo trago sempre molti spunti. Al punto che stanotte ho passato la notte in bianco per pensare cosa dobbiamo dirci di nuovo. Perché questo deve essere l'obiettivo oggi. Dobbiamo dirci qualche cosa di nuovo. Io mi scuso con quelli che magari sono a digiuno del tema. Farò giusto qualche cenno iniziale su cosa sono le società benefit, perché ci sono, da dove vengono, dove vogliono arrivare. Ma per Taranto è già venuto il tempo e a maggior ragione lo è questa mattina di pensare alla pratica, all'operosità. Quindi non più solo ai grandi slanci ideali. Vi voglio anche dire una cosa. Ci si mette pochi minuti a leggere la legge sulle società benefit. Pochi minuti. Permettetemi di dirlo con un po' di orgoglio, è anche scritta bene. Si legge volentieri. Però per capire che cosa sono le società benefit, dall'esperienza che ho fatto girando l'Italia, ci vuole almeno un'ora. Ci vuole almeno un'ora di riprogrammazione del cervello. Riprogrammazione dei modelli economici che abbiamo in testa. Per capire un'idea semplice, perché poi alla fine l'idea è semplicissima. Ma perché avvenga quello scatto, io quello che ho sperimentato, che ci vuole almeno un'ora. Altra cosa che ho sperimentato è che però, in genere, tra coloro che pensano di averlo capito, il 90% non l'hanno capito pienamente. Quindi non vorrei deludervi su questo. E tra l'altro ho sperimentato anche un tema di chi è interessato a questo argomento. Inizialmente le platee interessate alle società benefit provenivano soprattutto dal mondo del terzo settore. Mi ricordo le prime volte che mi chiamavano in giro per il paese erano esperienze o del terzo settore o un po' ibridate, positive, molto positive, e ci andavo volentieri. Però mi dicevo c'è ancora molta strada da fare. E poi è toccato più a quelle realtà ibridate, imprese sociali, collaborazioni tra imprese, terzo settore. E poi è arrivato il momento dei sognatori, imprenditori in carne e ossa, che hanno tutti i giorni il problema di alzare, e abbassare la saracinesca, tirare la riga in fondo al bilancio e vedere che c'è un utile, che hanno in mente per la loro azienda una visione nuova e si ritrovano perfettamente nell'idea di società benefit. È arrivato il momento degli investitori. Io sto facendo i primi incontri con fondi di investimento sulle società benefit, grossi investitori privati, ed è arrivato contestualmente, anche se ancora poco visibile, il momento delle grandi società, grandi società nazionali o multinazionali, top, top di settore, che si stanno domandando se e come iniziare il cammino delle società benefit. Ecco, questo percorso, ve lo dico, perché serve a tutti noi per collocare il tema sul giusto punto dell'asse. quindi deve venire uno scatto e non pensiamo che stiamo parlando di qualche cosa di astratto, di qualche cosa che riguarda pochi benefattori che hanno in mente di fare qualche cosa di diverso dagli altri, no, riguarda il business, riguarda il futuro, riguarda la sopravvivenza di un modello di sviluppo resiliente che ci fa star bene. Se non riguardasse questi aspetti, non sarei qui a parlarvene per la terza volta. Sarei veramente molto in imbarazzo. vi voglio dire anche un'altra cosa. Taranto è uno dei luoghi che maggiormente sta approfondendo il tema delle società benefit. La vostra guida oramai è diventata mitica, ma soprattutto il vostro progetto sulla città e sul distretto è molto chiaro, no? È molto chiaro che tipo di ambizioni si vuole portare dietro. Già ve lo dicevo, si è concluso nelle settimane scorse, un lavoro analogo per obiettivi sulla città di Milano. Portato avanti, lo possiamo dire, da Ernest Young con tantissime società e nei prossimi giorni uscirà uno speciale del Sole 24 Ore che raccoglie varie esperienze in Italia e quel tipo di lavoro. Ora, troverete un diverso approccio. che dà testimonianza della ricchezza del tema. Dà testimonianza della ricchezza del tema. Se mi permettete, se mi permetteranno gli amici di Milano, io credo che qui a Taranto ci sia un approccio più radicale che va dritto al cuore del problema, futurista. Che a Milano ci sia un approccio pragmatico, graduale. perché? E perché mi van bene tutti e due? È come se si stesse costruendo un ponte dai due lati opposti del fiume che pian piano è destinato a raggiungersi e quindi a dare l'agibilità completa di questo percorso. Quella realtà economica evidentemente è molto ricca, molto, con un presente molto rassicurante, eppure si sta interrogando di come compiere questa transizione. Pertanto sta pensando a dei modelli molto che partano dal presente e arrivino a se mi permettete la semplificazione non vorrei essere anche un po' riduttivo rispetto ai vostri obiettivi qui ma lo anticipava bene il senatore Tonini state guardando al punto di approdo a come dovrà essere il radicamento la connettività tra le imprese il tipo di impresa che garantirà benessere domani a questa città. E mi è anche abbastanza facile capire perché ci sia questo tipo di approccio molto intelligente da parte vostra perché evidentemente i punti di partenza sono in maniera ben nota caratterizzati da situazioni analoghe ma con una diversa come dire percezione del futuro. Detto questo prima di darvi quei pochi minuti di refresh su cosa sono le società benefit mi sembra che il modo migliore per farlo sia farvi ascoltare un video messaggio che mi ha mandato questa settimana l'amministratore delegato di una società benefit italiana non uno che sta pensando di no una società benefit italiana che si è costituita che è diventata si è costituita come società benefit all'indomani dell'approvazione della legge e che fa di questo aspetto l'aspetto centrale attorno a cui costruire il proprio successo in Italia e all'estero è anche una società particolare il saluto dura veramente poco è una società aerospaziale si chiama The Orbit che vi racconto la storia di questo fondatore Luca Rossettini lui da piccolo sognava di fare l'astronauta poi capite che non tutti possono fare l'astronauta però ha continuato a coltivare il suo sogno grazie anche agli studi importanti che l'Italia gli ha consentito di fare e ha unito quel sogno a un'esigenza e alla sua idea di sostenibilità ha capito che nello spazio si sta creando un problema di spazzatura spazzatura spaziale che sono i satelliti che non sono più utilizzati e che pian piano vanno a saturare l'orbita e che potrebbero causare un enorme blackout mondiale questo è un problema che per chi di voi ha visto il film Gravity mi pare si chiamasse è rappresentato in maniera molto chiara e si è inventato un modo per pulire lo spazio dalla spazzatura spaziale adesso non entro nei dettagli ma mi piace farvi ascoltare il messaggio che mi ha mandato proprio martedì di questa settimana perché vi fa capire che le società Benefit non sono un sogno futuribile ma sono già presenti e poi riprendiamo Senatore Del Barba sono Luca Rossettini amministratore delegato di The Orbit The Orbit è una società italiana nata nel 2011 che opera nel settore spaziale noi ci preoccupiamo di portare i principi di sostenibilità strategica nel settore spaziale in modo profittevole abbiamo soluzioni per risolvere il problema dei detriti spaziali siamo i primi ad avere un sistema che permette ai satelliti di essere rimossi dallo spazio in modo controllato e sicuro siamo i primi ad aver lanciato sul mercato un sistema di trasporto per i piccoli satelliti che garantisca non solo una migliore operatività in orbita ma anche l'evitare di lasciare nuova immondizia nello spazio e tra un mese lanceremo il nostro primo satellite un satellite fatto da noi qui interamente in Italia lanceremo un satellite dall'India e questo satellite sarà rimosso e sarà il primo satellite al mondo rimosso in modo controllato e sicuro l'Italia è stata quindi il terzo paese del mondo a lanciare un satellite nello spazio e grazie a noi sarà il primo paese al mondo a rimuoverne uno The Orbit è una società benefit è la prima società benefit al mondo nel settore spaziale grazie a questo grazie a quello che facciamo siamo molto presenti sui giornali nazionali internazionali sono state scritte diverse tesi su di noi e spesso veniamo chiamati per capire come funziona una società benefit e per capire come poter replicare il modello italiano all'estero all'estero c'è molta risonanza data a queste nuove società che stanno cambiando il mondo in positivo e sicuramente in Italia la risonanza è leggermente minore ma sono ottimista sono convinto che nei prossimi mesi vedremo un maggior numero un numero sempre maggiore di aziende che sceglieranno questo percorso quindi concludo ringraziandole ancora una volta per quello che ha fatto sul modello della società benefit e quello che continua a fare come noi molte altre aziende hanno scelto questo percorso e molte altre sono in attesa di vedere riconosciuto il loro status di società benefit grazie ecco quello che in questo video saluto non dice e che conosco molto bene e che mi soffermo ancora un minuto per raccontarvi è quanto è accaduto il giorno in cui lui ha deciso di trasformare la società in società benefit tenete presente che quella è una SRL le cui quote di maggioranza sono detenute da un fondo di investimento quindi è andato dal fondo per parlare di questo progetto e ha chiesto ai gestori del fondo non darmi la risposta leggi bene quello che ti ho preparato la cosa non sorprendente ma da sapere è che il fondo ha poi subito detto procediamo immediatamente perché questo tipo di trasformazione è una trasformazione che dà robustezza alla società che magari dal punto di vista dei profitti immediati non aggiunge un euro nemmeno toglie perché altrimenti il fondo non avrebbe ragionato in questo modo ma di sicuro mi diminuisce i rischi mi diminuisce i rischi da tanti punti di vista che riprenderò alla fine quando avremo forse capito meglio che cos'è una società benefit e perché è così importante per il cambio di paradigma però ricordatevela questa vicenda del fondo di investimento che non è né teorica né lontana è avvenuta l'anno scorso in Italia quindi non stiamo parlando di sogni non stiamo parlando di utopie possiamo mettere allora queste tre slide veloci per provare a ricordare di che cosa stiamo parlando innanzitutto le società benefit lo ricordo sono società profit siamo nel settore del profit non un profit limitato un low profit no sono esattamente tutte le società che già conoscete potreste prendere tutte quelle del vostro territorio sono candidate candidabili a diventare società benefit allora quello che voi che cosa che cos'hanno di diverso una volta che decidono di essere società benefit rispetto al giorno prima parlando di trasformazione o cos'hanno di diverso dalle altre società di profit che non sono benefit lì ve l'ho assolutamente sintetizzato cercano di incorporare quello che anche col BES abbiamo cercato di capire fa lo Stato nel suo bilancio cercano di incorporare concetti di benessere più profondi che non quello della semplice produzione dell'utile ma di incorporarlo accanto alla produzione dell'utile questo deve essere molto chiaro perché molto spesso nascono degli equivoci su questo punto non c'è una destinazione dell'utile a non stiamo parlando di qualche cosa di analogo alle fondazioni o di società ibride tra il profit e il no profit sono società che nel raggiungere i loro scopi aziendali scelgono di scelgono di aggiungere altri scopi di beneficio comune lì vedete rappresentati di tipo sociale o ambientale ok quindi sono società che fanno profitto rigenerando le persone e l'ambiente cercano di tenere assieme questi tre elementi del benessere questo va a discapito del profitto perché questa è la prima cosa che un imprenditore si domanda teme o anzi molto spesso presuppone perché diciamocelo molto chiaramente l'imprenditore molte volte partecipa a questi convegni con grande entusiasmo poi però altrettante volte se ne esce con un po' di scetticismo e si domanda ma io alla fine dell'anno quando tiro la riga in questo modo ho ancora quell'utile ecco le prime cento e più società che sono diventate società benefit rispondono con entusiasmo sì ce l'ho più di prima ce l'ho più di prima guardate che questa è una cosa fondamentale se un imprenditore non coglie questo aspetto non è pronto cioè non forzatelo eh non forzatelo a pensare di divenire società benefit d'accordo perché eh quando quando si traccia una strada nuova bisogna anche avere il passo per poterci camminare sopra no anche se quella strada è più promettente è più ti consente di raggiungere più velocemente la meta ma devi avere il passo la legge fa questo la legge lascia agli imprenditori di capire se hanno il passo e quando avranno il passo eh non è una legge che è appesantita di forme burocratiche poi magari lo vediamo andiamo avanti eh qui iniziamo a introdurre due concetti eh un po' più tecnici eh io ve l'ho detto non mi voglio soffermare troppo quest'anno su questi aspetti eh su questi aspetti qua eh i due concetti che introduciamo eh vedete che la società benefit ha un po' l'ambizione di mettere assieme il buono del no profit il buono del profit quindi andare a comporre una società eh che fa le stesse cose che fanno le società di profitto ma con quei pezzettini di puzzle colorati no? quindi che nel contempo non genera effetti collaterali per dirla con un termine che magari eh può essere molto più chiaro di tipo sociale o ambientale anzi che è curativa eh quindi che impedisce o limita la generazione di effetti collaterali anzi se ne prende cura magari genera benessere collaterale questo è un pochino eh c'è una forma giuridica per garantire tutto questo quello delle società benefit che comporta una responsabilità giuridica in capo agli amministratori nuova d'accordo eh questa forma giuridica prevede che così come lo Stato nel suo bilancio ha introdotto il BES accanto agli indicatori tra agli indicatori tradizionali al bilancio l'imprenditore introduca una relazione sugli obiettivi di beneficio comune che accompagna il bilancio vedete che possiamo finalmente parlare delle società benefit in analogia con qualche cosa che sta avvenendo nel paese non più eh come dire cercando di proiettare la nostra fantasia la nostra fiducia verso qualche cosa che verrà no è qualcosa che sta avvenendo è qualcosa che sta avvenendo a livello sistemico quindi c'è la relazione che viene accompagnata al bilancio sugli obiettivi di beneficio comune ma c'è anche quell'altra cosettina importante che vedete misura dell'impatto degli indicatori degli indicatori che questa volta la legge come dire individua in quattro settori molto precisi in quattro settori molto precisi li ricordo la governance aziendale la gestione dei dipendenti il rapporto con gli stakeholder quindi il territorio la catena dei fornitori le associazioni i cittadini in cui opera i clienti e l'ambiente d'accordo questi indicatori sono se volete lo strumento più concreto che in maniera pragmatica garantisce che quanto di ideale e di giuridico è costruito per le società benefit si traduca però in fatti concreti e non sia solo una mera dichiarazione di intenti ok io vi ho fatto il riassuntone da 4 minuti vi ho detto che in genere in 45 minuti il 10% capiscono cosa sono le società benefit in 4 minuti il 100% dei tarantini capiscono cosa sono le società benefit perché qui c'è una cultura di base sul tema che non ha uguali per il paese però andiamo avanti vi ripropongo una slide che abbiamo già usato qui anzi che abbiamo usato qui un anno fa direi perché questo è lo scenario io qua mi soffermo con voi ancora un attimo è molto importante perché dentro questo scenario voglio sovrapporvi un'idea schematica di come funziona oggi il nostro modello di sviluppo quello che abbiamo detto col professore che o è un modello sostenibile o stiamo parlando di qualche cosa che non ha più senso non è più attuale che però quindi dobbiamo individuare cos'è un modello sostenibile le due categorie che vi ricordavo prima da una parte le società profit e dall'altra il non profit le società benefit lì sono scritte in mezzo ma vedete che c'è una freccia che vi ricorda che sono parte delle società profit anzi diciamo c'è la tutta guardate che il vero compimento di questo sogno post sessantottino non sta nel fatto che ci sia qualche società benefit ma sta nel fatto che in un futuro il modello di impresa sia esclusivamente qualche cosa che origina dalle società benefit nessuno qui ha la pretesa l'ambizione o la follia di immaginare che le società benefit siano l'approdo definitivo del nuovo modello di sviluppo perché stiamo andando a ricercare qualche cosa che si è perso nei decenni e che nessuno sa ancora esattamente come vada costruito però c'è un però che in questa tripartizione dei compiti che noi ci siamo dati e quali sono i tre la tripartizione quali sono i tre soggetti il profit le imprese le imprese che fanno la gran parte del lavoro cosa intendo per lavoro l'attività economica la produzione di beni e servizi che caratterizzano la vita economica dell'uomo gran parte la fanno le imprese per quello siamo qua nella cittadella delle imprese siamo nel cuore del tema gran parte la fanno le imprese gran parte di questo lavoro una parte l'abbiamo data da fare al no profit non è che è qualcosa di trascurabile rispetto al modello di sviluppo economico molti di noi sono scout lo scoutismo è un'agenzia educativa nel nostro modello attuale è nel no profit potrebbe tranquillamente lo stesso servizio far parte del profit se ci fosse qualcuno disposto a pagare si strutturasse come impresa per carità non sto proponendo questo vi sto solo dicendo che l'attività che fanno i soggetti no profit eppure quell'attività economica è costruzione di benessere almeno così ci si augura offerta di servizi questa divisione tra profit e no profit molte volte ha creato delle barriere delle separazioni innaturali del tutto innaturali almeno rispetto al modello che stiamo tentando di descrivere perché a noi interessano gli effetti che vengono prodotti sulla vita comune sulla vita di tutti noi e gli effetti li producono le imprese tanti effetti il volontariato una quantità significativa di effetti e qual è la terza parte lo Stato la politica le istituzioni sia con la propria azione diretta sia con la propria regolamentazione no prima fra tutta anche la questione fiscale dove io vado a prendere dentro questo modello che funziona ma da solo zoppica vado a prendere andare a investire magari laddove un settore è a fallimento di mercato c'è qualche cosa che servirebbe alla società ma non produce utili beh lo posso fare con il pubblico posso decidere di fare con il pubblico pensiamo alle strade potrei pensare a un modello di sviluppo dove invece produce utili faccio sempre pagare il fiorino a tutti quelli che passano ogni giorno ok capite che siamo dentro delle convenzioni perché oggi guardate che molti non ci pensano più che sono delle mere convenzioni umane tante volte ce le sentiamo addosso come se fossero le tavole della legge come se fossero il modo unico e immodificabile con cui può funzionare un modello di sviluppo economico e non è mica così non è che perché l'abbiamo sognato diverso e non ci siamo riusciti dobbiamo rassegnarci a che ci pesi sopra e lo si debba portare come Atlante tiene il mondo sulle spalle curvandoci sempre di più non è questo il tema il tema l'ambizione e le società benefit sono uno strumento capite benissimo che stiamo parlando di un'ambizione che va oltre la portata delle società benefit ma le società benefit o stanno dentro questa ambizione o non hanno senso o hanno poco senso in questo senso qua no non so se vi ha colpito quello che diceva l'amministratore delegato nel saluto siamo gli unici primi al mondo a essere benefit noi siamo all'estero ci chiamano per parlare in Italia un po' di meno o guardate che questo è un difetto assolutamente normale che ci portiamo addosso non ci deve mica preoccupare né spaventare ci deve anzi incoraggiare che quello che noi in Italia abbiamo proposto per primi non è caduto nell'indifferenza c'è grande fermento e grande attenzione attorno a questo cambiamento qua perché altre parti d'Italia seguono perché lo Stato segue il BES è fondamentale che oggi ci sia stato al tavolo Giorgio Tonini oh guardate che rispetto all'anno scorso è per voi per Taranto il segno è l'indicatore della strada giusta intrapresa lo Stato segue e non potrà più tornare indietro rispetto a questa scelta lo capite anche voi lo capiamo benissimo e la riforma del terzo settore non è mica lì per caso eh questo abbattimento delle barriere innaturali che c'era tra quei due settori che consentirà al terzo settore di superare due fondamentali limiti che si portava addosso la scarsa professionalizzazione e la non appetibilità dei fondi la mancanza di capitali no? chi portava capitali sul terzo settore eh se poi quei capitali eh a non non rendevano in nessun modo b erano anche poco in maniera poco efficiente investiti per via della scarsa professionalità o professionalizzazione di quel mondo capite che mettete assieme queste tre cose introduzione del BES non solo nel bilancio ma nella programmazione pubblica dello Stato perché gli indicatori non sono un un abbellimento del bilancio dei fiorellini che mettiamo a margine di alcuni numeri servono e serviranno sempre più quando avremo la serie storica per incidere sulla programmazione economica ed è tutta evidenza no? è chiarissimo nel momento in cui diventano dati ufficiali dello Stato e del bilancio dello Stato che questi incideranno sulle politiche dall'altra parte si rimuove quell'innaturale divisione e il mondo profit il mondo profit se resta quella cosa eh cinica e disillusa post sessantottina che non fa nessun cambiamento rischia di come dire annullare gli effetti di questi due importanti cambiamenti andiamo avanti vai ah queste le avevo cancellate non so perché si vedano vai 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 ecco questo era quello che vi stavo dicendo torna al noi dobbiamo adesso fare in modo che questa che è la leva principale l'amo principale che tira tira le scelte dell'imprenditore eh non sia più l'unico amo presente nei nostri mari non sia più l'unico amo presente nei nostri mari come ci si arriva a a cambiare questo paradigma intanto ci stanno arrivando da soli molti imprenditori ed è la cosa più importante no? non glielo devi spiegare non li devi convincere sono loro che vengono ti scrivono ti dicono io l'ho fatto ti ringrazio andate avanti così per carità non mettete agevolazioni fiscali perché dicono non mettete agevolazioni fiscali perché eh per loro le agevolazioni fiscali sono questo amo che va a trarre i pesci sbagliati no? se mi passate il termine se ci capiamo questo è un tema per carità che non è chiuso definitivamente ma in questa fase ha ragione il professore la scelta è stata anche una scelta quella di non mettere agevolazioni fiscali per non fornire false indicazioni su qual era la via tracciata capite che se uno viene perché c'è l'agevolazione fiscale vuol dire che viene perché ha bisogno di ridurre una voce di costo del suo bilancio quindi che è sacrosanto eh è sacrosanto però vuol dire che ha ancora in mente solo il documento del bilancio e non ha mica in mente tutte le altre cose dopodiché una volta che il paradigma passa naturalmente il legislatore il governo dovrà anche eh tornare esercitare eh le leve le leve che ha a disposizione della regolamentazione e anche eh del fisco andiamo avanti ecco qui c'è la bozza di del decreto legge che viene esaminato oggi pomeriggio dal consiglio dei ministri su e che va a disciplinare oggi pomeriggio è consiglio ministro mi sembra di sì eh è in corso è in corso dovrebbero eh avere questo tavolo questo foglio sul tavolo è la nuova impresa sociale perché vi parlo dell'impresa sociale ho cercato fin qui di dirvi di tutto perché eh voi metteste a fuoco un concetto di società benefit che nulla ha a che vedere con l'impresa sociale ecco ve ne parlo per rafforzare questo concetto beh l'impresa sociale e eh forse sarebbe utile leggere possiamo mettere il testo eh nella cartella o anche il testo intero in documento Word l'impresa sociale è una nuova forma di impresa anche questa rivolta pure al profit eh anche alle società del libro quinto del codice civile che però non ha in sé tutta la portata rivoluzionaria di cui io vi ho parlato finora ma fa parte di questo disegno cerco di spiegarmi meglio l'impresa sociale ecco se lo vai a scorrere vediamo l'articolo uno non lo so se si riesce se no ne parliamo un po' in libertà eh l'impresa sociale è il tentativo già operato da alcuni anni e che ora viene aggiornato dello Stato di intervenire in quel settore di confine tra il profit e il no profit su specifici bisogni della società bisogni di tipo sociale appunto che non erano adeguatamente coperti né dal profit né dal no profit perché magari il profit non aveva abbastanza eh incentivi abbastanza utile erano a fallimento di mercato per così dire e il no profit non aveva abbastanza forza per arrivarci qui stiamo agendo se volete ancora nel vecchio paradigma in maniera virtuosa positiva eh voglio voglio che ci si capisca bene ma è un intervento eh come dire molto targettizzato io sto andando a dire ad alcune imprese o ad alcune associazioni se ti occupi di quella cosa lì hai un particolare regime fiscale hai una particolare configurazione cioè sto andando a creare un soggetto ad hoc per occuparsi di una situazione specifica è una cosa positiva virtuosa che fa parte della rivoluzione ma vorrei ve l'ho citata per dirvi che le società benefit fanno esattamente un'altra cosa fanno esattamente un'altra cosa dicono le società benefit a tutto il mondo profit che uno faccia viti eh che uno faccia la banca che uno venda pomodori faccia agricoltura eh dia la telefonia guarda che tu in quello che stai facendo se vuoi sei chiamato a una nuova responsabilità e guarda che questa nuova responsabilità non solo è bello portarsela addosso ma secondo me renderà la tua azienda più forte e più vincente sul mercato di domani questa è la scommessa eh questa qui è la scommessa qualche imprenditore è già disposto a farla ha capito scommette che è così che deve cambiare la sua impresa non solo perché vuol fare il benefattore anzi molte volte non perché vogliono fare i benefattori ma perché vogliono portare far sopravvivere più a lungo la propria impresa aumentare i profitti ok scusate esaspero un po' questi aspetti perché almeno a Taranto voglio che non ci sia ambiguità di nessun tipo su cosa sono le società benefit e che tipo di vocazione territoriale possono avere e devono avere è importante che voi stiate facendo questo lavoro di semina culturale operativo operativo preparate un terreno perché gli imprenditori siano sempre più consapevoli è chiaro che sfide di questo genere non le può vincere Taranto da sola eh perché è difficile immaginare che si cambia un paradigma un modello di sviluppo economico in un luogo solo quando la competizione è globale perché questo è il tema perché poi c'è la competizione questo deve essere un modello non che ci piace di più ma che ci fa anche competere meglio è qui che allora ci va la ricerca la ricerca delle università il perfezionamento degli indicatori di quali di quali indicatori di benessere oggi sono sia garanzia di un maggior benessere sociale e ambientale sia garanzia di una maggiore produttività e competitività dell'azienda da quelli dobbiamo partire allora voi dovreste entrare in questa fase secondo me se posso permettervi di darvi un consiglio nella fase in cui capito il disegno capito che il vostro territorio è pronto ad andarci allora si entra un po' nel merito del discernimento operativo quali sono i punti di forza nei quattro settori che ho ricordato prima le filiere degli stakeholder il trattamento dei dipendenti l'ambiente quali sono le cose che non sono un limite un appesantimento del bilancio ma rafforzano il tessuto imprenditoriale locale legano tra loro le imprese le fanno diventare un soggetto che complessivamente compete meglio queste sono le sfide che la camera con le università con corsi di questo tipo possono oggi intraprendere e possono farlo perché hanno capito che lo stato segue il mondo segue non siete non siete come dire dei seminatori in un deserto dove non crescerà nulla no stiamo parlando di un terreno che allora noi avevamo scommesso sarebbe stato fertile ma che sta dimostrando di esserlo giorno dopo giorno due settimane fa sono stato in Albania e il ministro dell'economia albanese è venuto a ascoltare la conferenza sulle società benefit e ha preso copiosi appunti il mese prossimo dicevamo in Peru ci sarà la prima conferenza internazionale dei legislatori sulle società benefit sono tutti segnali che in qualche modo per voi dovrebbero indicare un buongiorno insomma la continuazione positiva di quanto state facendo ecco lo riassumo così questa slide secondo me dovete immaginare come si esce dal mar piccolo per entrare nel mar grande lì questa è una somma vettoriale quindi credo che lei ci va a nozze perché chiarisce bene se uso solo il motore del profitto rischio di andare a sbattere contro alcuni scogli non vi devo dire io quali se uso solo il motore del beneficio comune rischio di restare in rada ma se li uso tutti e due assieme non è che uno limita l'altro credo che la somma vettoriale qui indichi bene direzione e intensità positive di successo target di successo andiamo avanti concludo no perché ho cercato di esortarvi adesso a un lavoro operativo ma ieri sera mi avete già fatto capire che non serviva lo state già per intraprendere con questo lavoro sul BES territoriale quindi l'avete capito da voi però concludo facendovi un cenno alle B Corp adesso qui chi è più digiuno dell'argomento so che avrà un capogiro e cade a terra svenuto cosa sono ste B Corp adesso perché ci complichi la vita che già avevamo fatto una fatica boia per capire cos'erano le società benefit le B Corp sono le normali società di profitto che lasciamo perdere per un attimo le società benefit che con lo stesso identico intento che vi ho raccontato fin qui e che riguarda le società benefit hanno deciso o possono decidere di certificarsi quindi stiamo parlando di una cosa che non c'entra con la legge che è volontaria che è data da un soggetto terzo di mercato in questo caso è una ONG che scusate è una ONLUS ONG è l'Apsus dato dai tempi è una ONLUS quindi no profit che si chiama B Lab quindi io sono una società sto sul mercato mi interessa quella cosa delle società bene facciamo una cosa però voglio certificarmi voglio diventare una B Corp anzi voglio fare una prova voglio neanche certificarmi che non si sa mai voglio fare una prova gratuita uso c'è questo network delle B Corp che questa ONLUS si è inventata con anni di studi approfondimenti tutta una serie numerosissima di indicatori e di misure che si fanno su tutte le aziende grandi piccoli alimentari di servizi ok strutturate in gruppi senza personale con migliaia di dipendenti personale e che ha l'ambizione di darvi un numero un numero solo alla fine dopo questa analisi complessissima che potete fare autonomamente ripeto rispondendo a dei questionari online vi tira fuori questo numero da 0 a 200 e dice se sei a 80 tu produci per la società tanto valore quanto ne distruggi se sei sopra produci più valore di quello che distruggi se sei sotto c'è qualche lavoro da fare ok quindi è una sorta di alla fine indicatore universale questo delle B Corp no? allora vi dico ma è nata prima è nato prima l'uovo o la gallina o è meglio l'uovo oggi e la gallina domani cosa faccio se voglio sono un imprenditore mi hai un po' convinto ma non fino in fondo non voglio rischiare cosa devo fare io mi permetto di parlarvi delle B Corp che ripeto non sono lo strumento legislativo ma lo possiamo dire chiaramente la legge si è ispirata a piene mani a questo strumento fatemelo chiamare di mercato che è quello di questa certificazione che può essere fatta autonomamente quindi non certificata dalla terza parte ma mi posso misurare autonomamente perché? perché le metriche che ci sono lì dentro sono delle metriche interessantissime per misurare lo stato di salute delle aziende ma perché ve ne parlo a maggior ragione dopo aver saputo che volete occuparvi del BES territoriale perché l'unione di queste due tecniche credo davvero senza eccedere nelle complessità ma trovando quel passo giusto per la gamba di ciascuno che possa essere l'armamentario appropriato per affrontare questa sfida in un territorio quindi se volete ampliare la grandezza della sfida forse occuparsi di quelle metriche può essere il passaggio prossimo venturo che cosa sono le benefit corporation quindi a differenza delle società scusate le B corp a differenza delle società benefit che ci sono solo in Italia perché solo l'Italia e 31 stati degli Stati Uniti hanno legiferato sulle società benefit lo so che adesso è diventato complicato vi ho introdotto due concetti gira un po' la testa società benefit quindi è il cambiamento giuridico quello che richiede la relazione da accompagnare al bilancio e degli indicatori che assomigliano molto a quelli delle B corp ma questa certificazione può essere fatta e viene fatta in tutto il mondo non serve che ci sia la legge affinché una società un'impresa volontariamente decida di esaminarsi di farsi l'esame del sangue e questa è la situazione al momento al momento in tutto il mondo ci sono più di 2.100 società certificate sono invece molte migliaia quelle che stanno provando a certificarsi o che si autovalutano però quelle certificate sono più di 2.000 in 50 paesi del mondo vedete in 130 settori differenti che hanno un unico un unico grande scopo che però vai che è un po' lo stesso che è lo scopo che viene attribuito alle società benefit quindi vedete che c'è un grande una grande sintonia una grande armonia almeno di intenti ma anche di strumenti tra le società benefit italiane e il movimento mondiale delle B Corp perché allora vi ho detto è nata primo luogo la gallina no vai avanti avanti questa è la crescita delle B Corp perché vi ho detto è nata primo luogo la gallina e perché è una buona notizia per Taranto e vado a chiudere no non stiamo facendo un'esperienza legislativa bizzarra e solitaria abbiamo portato a galla con la norma con la legge un fenomeno che a livello planetario è già diffuso e che ha forti spinte e ha forti spinte economiche tra quelle 2100 aziende certificate ci sono alcune tra le più grandi multinazionali americane e non solo e anche orientali ok stiamo parlando di business vero business duro di roba che gli imprenditori dovrebbero iniziare ad ascoltare con grande interesse quel mondo lì quel mondo lì ha chiesto e sta facendo pressioni agli stati che nasca la legislazione sulle società benefit perché qual è il collegamento perché a un certo punto si vuole rendere quel processo irreversibile una certificazione oggi me la metto e domani la tolgo faccio come questa spilletta e domani la tolgo perché ho cambiato idea perché è arrivata una nuova proprietà uno status giuridico di questo tipo su cui insiste e collabora lo Stato e che si lega col terzo settore e col territorio è un processo irreversibile ok quindi noi in Italia non abbiamo certo scritto nella legge le società benefit si devono certificare B Corp e vedrete ad esempio che nel lavoro che uscirà sul sole 24 ore la parte prodotta da Ernest Young prova a suggerire anche opportunamente altre metodologie che vanno benissimo tutte però c'è questo forte legame che vi segnalo tra un movimento internazionale che è come quello delle B Corp una pressione che viene fatta a livello globale sugli stati e sul legislatore che dovrebbero in qualche modo incoraggiare ulteriormente quanto voi state di buono facendo qua andiamo pure avanti queste sono alcune delle società visto che vi dicevo che ci sono società importanti in Italia e all'estero che sono diventate B Corp ultimissime slide e poi chiudiamo questo lo sappiamo che qua è diventata legge vai vai pure vai pure che ne ho parlato ci fermiamo qui un attimo perché farlo io spero che a queste domande a questa domanda di questa slide adesso ciascuno di voi sia in grado di rispondere autonomamente e di dare anche delle risposte aggiuntive rispetto alle prime che sono suggerite qua però giusto per chiudere insieme proviamo a ragionarci sopra allora primo approccio ricordate quel imprenditore che seguiva Lamo perché farlo il 90% degli imprenditori e dei commercialisti ancora oggi dopo la prima spiegazione dice beh ci sono ci sono sgravi fiscali giusto no il motivo per cui farlo non è perché ci sono sgravi fiscali perché non ci sono al momento non ci sono sono previsti si faranno non posso certo impegnarmi io per il futuro Parlamento il mio punto di vista è che a un certo momento di maturità del modello avrà anche senso ragionarci sopra non in questa fase qua non in questa fase qua davvero c'è un tema non di poco conto invece di deducibilità dei costi cosa voglio dire ma se io che faccio viti e metto dentro il fatto che la materia prima la voglio prendere dal territorio trasportarla senza emissioni di CO2 quindi sto parlando di un obiettivo di beneficio comune che sta nel core business io non vi ho tediato oggi sul fatto se le società benefit debbano arricchire il proprio core business con obiettivi terzi fare gli asili nido occuparmi di chi non ha istruzione o se il beneficio comune debba essere squisitamente attinente a quello che già faccio io sono molto affezionato a questo secondo modello ciascuno faccia bene il proprio mestiere ne verrà fuori un modello di sviluppo economico che funziona bene dopodiché ben venga anche l'altro uno vuole aggiungere al proprio mestiere altre vocazioni se ritiene di farlo perché no why not allora in questo caso in tutti e due i casi c'è il tema ma i costi che io sostengo in virtù del nuovo beneficio che ho aggiunto ammesso che io sostenga costi perché se abbiamo capito tutto il giro del fumo non significa destinare parte dell'utile o dei costi a qualcosa di nuovo è qualche cosa di più ma ammesso che io sostenga costi diretti per questo nuovo beneficio comune sono deducibili fiscalmente qui c'è tutto un tema che sta portando avanti con profitto la fondazione nazionale dei commercialisti che vorrebbe dire di sì in virtù di principi costituzionali che riassumo con sussidiarietà fiscale cioè sì perché io impresa sto già concorrendo in questo modo alla creazione con lo Stato di benessere sociale e ambientale questo è un tema ma perché dovrei farlo? beh tutti mettono al primo punto gli imprenditori che l'han fatto perché ne consegue una governance più solida per la mia azienda perché ho una vigilanza maggiore su temi che stanno diventando sempre più sensibili per il mercato il classico vantaggio reputazionale che non ci deve come dire disdegnare perché esiste ancora grazie a Dio si è sviluppata una sensibilità tra i consumatori che consente di dire che c'è anche il vantaggio reputazionale e benvenga anche perché questa parte qui non sparirà più dal modello la sensibilità del consumatore è qualche cosa destinata a crescere con questi movimenti di opinione quindi è un tema che deve rimanere sul tavolo che ha una sua dignità che va citato miglioramento di fattori produttivi interni perché mi costringe a conoscere meglio e a monitorare tante cose della mia azienda l'apprezzamento dei finanziatori non ve lo spiego perché vi ho fatto un esempio in apertura quando vi parlavo di The Orbit e lì vi ho detto che così avrei voluto chiudere e spero che proprio al termine di questo percorso un po' veloce con qualche curva spero che a nessuno sia venuto il mal di testa quello che accennavo all'inizio ora sia più chiaro che sia più chiaro che stiamo parlando di qualche cosa di concreto adesso i finanziatori sono al tavolo vedrete che tra un po' ci sarà anche la politica quando arriva la politica al tavolo vuol dire che la missione è compiuta ci auguriamo che arrivi presto e che arrivi bene buon lavoro buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti